Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video oggi è un video un po' diverso dal solito abbiamo deciso con il gruppo di pesca piombino di fare una battuta di pesca tutti quanti insieme in mare e domani andare a fare un pranzo nel quale mangeremo il pescato di oggi ci sono pescatori veramente molto bravi oggi in mare ed io sarò insieme a uno di questi in gommone si chiama Gabriele, lo ringraziamo e lui è veramente molto molto bravo a pescare e chiediamo un po' cosa ne uscirà fuori quindi insomma questo sarà un bel video ragazzi vi auguro una buona visione a me un buon mare e andiamo ad imparare tanto oggi insomma ragazzi inizia questa avventura questa che vedete è una delle mie routine di stretching che faccio solitamente prima di andare in mare che mi aiuta ad essere più sciolto e rilassato durante i tuffi qui stavo aspettando Gabriele era arrivato prestissimo perché ero super emozionato ad andare a pescare in gommone che non sapevo dove sarei andato a pescare la notte non ho nemmeno dormito e ero emozionatissimo quindi sono arrivato stra presto e ho fatto un po' di stretching e di respirazione per rilassarmi un po' eccoci qua con il primo tuffo ho il fucile di un amico perché volevo provare il dark side e quindi gliel'ho lasciato provare vado giù mi apposto è un aspetto molto lungo nel quale in lontananza vedrò un dentice però non arriverà mai a tiro e mi resterà sempre piuttosto lontano come vedete durante gli aspetti ho iniziato a rilassarmi di più ho iniziato a stare più calmo più fermo con la testa più rilassato quindi inizio a vivermela molto molto meglio l'apnea riesco a stare meglio in pesca appena vedo il dentice in lontananza mi abbasso e inizio a ricamarlo nel tuffo purtroppo non si vede essendo l'alba ma come potete vedere anche la mangianza si sposta si abbassa perché eccolo qui ora ve l'ho zoomato vedete una macchia in fondo mi è restato tutto il tempo lontano e distante e non sono mai riuscito a farmelo avvicinare quindi piccato perché il tuffo era davvero bello ho passato la GoPro a Gabri e questo è il primo tuffo di Gabriele con la GoPro su un fondale di circa 10-12 metri va giù si apposta e praticamente una volta appena arrivato inizio a fare dei richiami e vedo le prime palamite purtroppo le palamite sono rimaste lontane e non è riuscito a spararle questo sono sempre io che faccio un altro tuffo anche in questo caso c'è una bella mangianza un po' nervosa sono esattamente dove inizia il taglio freddo a circa 9 metri e mezzo la mangianza è piuttosto schiacciata quindi penso che ci sia qualche predatore infatti di qui a poco alla mia sinistra appare questa coppia di barracuda sopra il taglio freddo sono due bepesci miro uno sparo ma non essendo abituato a questo fucile sbaglio completamente il tiro questa invece è la bellissima palamita di Gabriele che però purtroppo ha sbagliato la tempistica della GoPro e non è riuscito a fare il video però sentiamo il racconto come è andata da qui l'aspetto l'hai fatta te l'avevo detta era buona ce l'ho fatta anche io ho preso un barracuda ma ce l'ho fatto un secondo fa sono andato a posarlo ce ne ho fatti due la prima volta l'ho visti poi ho detto l'ha giù dove te l'ho detto io no no qui l'ho preso qui ok dove ha sparato ora ero qui sotto qui sotto questa piana a fare l'aspetto e niente prima l'ho visti poi sono andato a prendere il pallone e l'ho buttato più vicino perché l'avevo lasciato un po' si anche io ce l'ho laggi un culo e poi sono venuto a fare l'aspetto qui qui ci passano le palavite poi hai bella se è venuto il video è venuta una figata ce ne erano tanti erano due erano poi è bellina che è bellina questa via è bellina questa via è bellina è bellina e alla fine la giornata è andata purtroppo l'agro cross è scaricata subito è andata abbastanza bene il barracuda l'ho preso io e la palamita spettacolare l'ha preso a gabri ragazzi per questo video è tutto insomma alla fine della pescata avevo preso un barracuda con il dark side e avevo restituito il fucile al mio amico e ho iniziato a tirare a dritto quindi niente è andata bene abbiamo preso una palamita un barracuda gli altri ragazzi hanno preso un po' di pesce e abbiamo mangiato molto bene siamo stati veramente bene queste sono le immagini del prossimo video quindi ragazzi guardate quanta mangianza c'è ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al canale noi ci vediamo in un prossimo video buon mare ok Grazie.